Maggiori tutele e risorse economiche per continuare a garantire il diritto alla salute. E' quanto chiedono i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari impiegati nelle strutture ospedaliere private e raccolti nell'Aiop Puglia, l'Associazione Italiana dei Lavoratori della Sanità Privata. Per il Presidente dell'Associazione, Fabio Margilio, è necessario in via preliminare individuare le coperture finanziarie necessarie. Il Presidente nazionale della nostra associazione, aggiunto, ha chiesto la scorsa settimana al Ministero della Salute l'attivazione di un tavolo di confronto con le parti sociali, dedicato proprio al rinnovo del contratto di lavoro del Compatto Sanità. Il fine, secondo il Presidente dell'Associazione pugliese, è quello di individuare le necessarie coperture e i relativi strumenti normativi che possano garantirle. Nei prossimi giorni, ha continuato, lo stesso tavolo sarà richiesto per il rinnovo del contratto RSA sociosanitario. Il problema delle coperture finanziarie è serio e va affrontato con urgenza, razionalità e lungimiranza. Inoltre, le risorse non possono essere individuate nelle disponibilità delle aziende associate a causa dell'incongruità delle tariffe esistenti ferme al 2012, ha specificato ancora Margilio, e del vincolo di spesa che limita fortemente la possibilità delle strutture di aumentare il valore di prestazioni, pur in presenza di una crescente domanda di servizi. ha concluso.